La straordinaria ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Taranto con gravissimi danni alle strutture agricole, alle produzioni arboree e agli allevamenti con oltre 300 animali morti, ha messo in evidenza la fragilità del sistema agricolo, rendendo urgente il ripristino delle imprese colpite. È evidente la necessità di un provvedimento che azzeri processi e lungaggini burocratiche e che mettano agricoltori e allevatori nelle condizioni di garantire continuità produttiva delle proprie aziende. In quest'ottica dipenderà molto dai comuni accogliere e rendere immediatamente operative eventuali misure a sostegno, atte a semplificare l'iter amministrativo a carico delle imprese agricole che hanno necessità di ripartire e non essere imbrigliate nelle maglie intricate della burocrazia. È solo uno dei provvedimenti contenuti nel documento presentato oggi a Castellaneta, condiviso dai sindaci delle aree falcidiate dal maltempo a cui va data immediata applicazione. È il presidente di Coldiretti Taranto, Alfonso Cavallo, a dare notizia del piano di azione per far fronte alle criticità a carico del settore agricolo della provincia ionica, aggravate dalla calamità dell'inizio di gennaio. Denunciato il danno al patrimonio zootecnico che, secondo Coldiretti, va affrontato con strumenti idonei e adeguate coperture finanziarie, disastrosi anche i danni per i comparti agrumicolo e dei vigneti di uva da tavola, al momento sono stati segnalati oltre 350 ettari di vigneto atterrato sotto il peso di neve e ghiaccio, con un danno stimato per 80 milioni di euro.